Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Giglia, che mi chiede di parlare del film del 1991 di Kevin Reynolds, Robin Hood, Principe dei Ladri con Kevin Costner nel ruolo appunto di Robin D. Loxley e poi abbiamo Morgan Freeman nel ruolo appunto del Moro che lui si porta dietro dalle crociate di Mité e poi abbiamo insomma vari altri personaggi, poi fra un grandissimo, veramente un grandissimo Alan Rickman nel ruolo dello sceriffo di Nottingham e una splendida Mary Elizabeth Mastrantoni a fare Marian e poi abbiamo Christian Slater giovanissimo, Daniel Peacock, Michael Winkett, insomma un bel cast per un filmone che abbia un successo incredibile, pomposo, abbastanza poco credibile, che non riesce a essere abbastanza divertente. La cosa che ci si ricorda di più di questo film è che Sean Connery praticamente per apparire sul finale, sposare e fa Riccardo Cuore di Leone, è stato pagato tipo 10 milioni per fare 3 minuti di film. La storia poi la sanno tutti appunto nel 1300-1100, inizio del 1100, di Jerusalem, giovin, reduce appunto dalla terza crociata in Terra Santa, è rimprigionato, si riesce a liberare, e libera anche il suo compagno di Cerlamoro, ovvero Morgan Freeman, e è una scala a scappare e arriva in Inghilterra. Quando arriva il nostro si rende conto che praticamente è tutto devastato da questo sceriffo che fa andare tutto a puttane e che guida appunto il re che in attesa di Cuore di Leone in maniera assolutamente orribile. Si rinamora di Marian, tutta la storia con appunto la banda appunto di Robin Hood, per un film pomposo, abbastanza serioso, che boh, c'è una colonna sollea, ma con Michael Kemen buona, una buona fotografia, un buon montaggio, la tecnica, direi se non si discute, si discute di una sceneggiatura che comunque è veramente noiosa, due ore e mezzo di film che non passano più in un certo senso. John Watson e Pondension scrivono qualcosa che minimina anche un po' il mito divertente e poteva essere sicuramente meglio. All'epoca aveva un grande successo per quell'orrenda canzone di Brian Adams, che era Everything I Do, I Do For You, mamma mia. Senti visto il titolo? Era un orrore, ci passi il tempo, è un film che così per molti è un caldo, per me alla base in realtà è un film poco più che modesto, modesto, un classico film che cancelli se non ci fosse un successo enorme, ma nessuno se lo ricorda. E' tra i Robin Hood meno proprio sentiti, si capisce, l'operazione commerciale, poi questa idea di questa banda che non funziona come dovrebbe funzionare, e questa idea appunto di questa strega che non va abbastanza a fondo. E' un film che non osa il fantasy, non osa un cazzo, è un classico film che sta lì, ripeto, grazie a una bella serie di attori, a una forte idea di messa in scena data dai soldi, ma che alla fine lascia veramente poco, se non addirittura rivisto adesso, una noia mortale, e anche un'idea di già visto, già sentito, e oltretutto invecchiato male, che incredibilmente sto film si porta dietro. Quindi è un classico film di mezzo, un classico film che al massimo li potete danzino se siete buoni, il compitino fatto a scuola, tanto per non essere rimandati, però in realtà, per il sottoscritto, è un film che quando ero ragazzetto lo vidi a 18-19 anni, diciamo, annoio abbastanza a morte, ma lo riguardavi la televisione, riguardandolo per questa mini recensione, dopo una mezz'oretta, ho pensato, porca puttana, sto film è veramente al di là dello sfarzo, ha veramente poco da dire, insomma è il film alla fine, gli manca quella cosa che secondo me deve servire un certo tipo di avventura, ovvero l'avventura stessa, sembra di trovarsi un film di fronte a un film telefonatissimo, non si riesce assolutamente a credere per un momento che Robin Hood possa fare qualcosa di sbagliato, un eroe troppo veramente lisciato, un eroe che non ha una vera tridimensionalità, ecco qual è il vero problema, questa sceneggiatura non regala tridimensionalità ai personaggi, per quanto siano bravi gli attori e per quanti soldi ci siano in scema, ci si può divertire lì per lì, e poi si angela la nana grande, ripeto, perché è un film che ha avuto un grande successo commerciale, ma artisticamente secondo me è di mortone e modesto, ripeto però il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, poi scrivitemi su Facebook, su Instagram per fare cose che faccio a giro per l'Italia, e poi se siete un fan di Costner e tutto il resto, è amato di Robin Hood questo film, comunque non è disgustoso, e qui lo guardate può garbare di più o di meno come tutti i film, non è, è un film modesto, quindi per qualcuno può essere molto bello, per altri molto più brutto, resta il fatto che per me insomma è tempo perso, e lo ripeto, il link lo metto qua sotto.